in molti sono venuti fin qui sperando che il reame potesse soddisfare i loro desideri il suo nome un tempo era nino sacro si diceva fosse il più grande reame mai esistito pieno di tesori e di segreti ora non è altro che una tomba benefica infestata da mostri e preda della follia immagino che alla fine tutto svanisca e qua praticamente ci spiega come poter salvare la partita e qua infatti ci spiega come fare ed ecco fondamentalmente come funziona il sistema degli amuleti abbiamo degli incavi che fondamentalmente rappresentano le cariche che abbiamo a disposizione per poter caricare i nostri amuleti ogni amuleto ha un costo diverso questo ad esempio è un costo di due incarna la furia e l'eroismo di chi sta per morire la forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte per equipaggiarlo basta selezionarlo e verrà spostato qui tra gli amuleti equipaggiati e per ora abbiamo solamente questo per cui non ci rimane altro che proseguire in questa città di cui ancora non sappiamo nulla una città letteralmente deserta ma sappiamo dal personaggio che abbiamo appena incontrato che sotto questo pozzo si dispiega tutta una città un regno sotterraneo un regno eterno e per ora non c'è nient'altro c'è una porta di pietra con una serratura semplice ma che però non possiamo ancora aprire è un posto letteralmente desolato e allora non ci rimane altro che buttarci di sotto sentieri dimenticati e questi sono quelli che il nostro primo npc definiva gli abitanti di questo luogo resi pazzi da non si sa che cosa dalle aree venifiche che infestano le caverne intanto possiamo cominciare a raccolare a simulare i nostri primi geo il primo posto che visitiamo è questo questo lo vedremo spesso questo carinissimo bacarozzo è il padre di numerosissimi figli numerosissime larve che però sono andate smarrite si in questi cunicoli il nostro compito sarà quello tra i vari che abbiamo di fronte di rintracciarli intanto non ci pensiamo per ora la cosa principale è cominciare a capire qualcosa di più di chi siamo e di quali sono le nostre possibilità proseguiremo successivamente in questa quest anche perché effettivamente dopo più molto più avanti nel gioco avremo anche degli oggetti che ci permetteranno di trovarli questi piccoli sperduti per ora non pensiamoci per ora andiamo avanti cerchiamo di capire come funziona questo gioco e questo luogo uno dei primi che incontriamo nel gioco è il tempio dell'uovo nero un luogo che sarà molto molto importante nella nostra avventura e un altro npc il secondo è un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati sei piccolo ma è l'aria di essere forte io sono Quirrell ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati questo antico reame ce l'ha molti misteri affascinanti e uno dei più intriganti è proprio davanti a noi un grande uovo di pietra situato nelle rovine di un antico reame e quest'uovo è caldo sembra essere qualcosa di unico nel suo genere ci può aprire ci sono degli strani simboli sopra adoro i misteri e chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi per tanto tempo mi sono sentito attratto da questo posto ho sentito tante storie meravigliose e allo stesso tempo spaventose non potevo più resistere dovevo venire e vedere con i miei occhi e sono arrivato al momento giusto questo mondo morto si è rianimato la terra trema e le creature si agitano l'aria è pesante mi domando quale sia la causa forse siamo noi la causa quel vecchio aculeo non ti basterà per sopravvivere in queste rovine ma non c'è problema basta solo guardarsi intorno in tanti sono venuti qui e la maggior parte è andata incontro a un triste destino molti erano meglio equipaggiati di noi due sono sicuro che non gli dispiacerebbe se un altro esplodatore li liberasse dei loro strumenti sarebbe un gesto di gentilezza i morti non dovrebbero portare tali fardelli praticamente ci sta dicendo di trafugare tutto quello che troviamo c'è già stato nella città lì sopra un posto piccolo e cupo e quali meraviglie sono nascoste lì sotto immagino sia per questo che sono tutti scesi qua giù chi potrebbe resistere a tali possibilità proprio una meraviglia? ma qua è ancora presto per noi il primo mistero lasciamo Quirrell davanti al mistero dell'uovo nero e noi proseguiamo cerchiamo di capire dove andare e che cosa fare soprattutto la prima cosa che a parte tutto ci conviene fare è quella come ci consigliava il buon Quirrell di trovare qualcosa oggetti o che altro che ci consentano di potenziarci di aumentare le nostre possibilità in questo mondo ostile e forse questa non era la direzione giusta questo è sin da subito un nemico abbastanza ostico molto corrazzato si vede subito è molto più grosso di noi cerchiamo comunque di affrontarlo è abbastanza stupidino si chiude in un lupo abbastanza facile da affrontare ecco per l'appunto ma ce l'abbiamo fatta lo stesso curiamoci prima di tutto finalmente abbiamo sfruttato il nostro potere principale il nostro primo potere e abbiamo trovato il primo baccarozzo siamo riusciti a salvare il primo di una lunga serie di baccarozzi chissà perché questo soldato era guardia di questa piccola creatura e chissà per quanto tempo lo è stato qua è ancora presto per andare ci andremo successivamente continuiamo ad esplorare questi sentieri dimenticati il nostro obiettivo è un altro per ora vediamo un po' cosa c'era qua sotto una strada chiusa probabilmente si sarà raggiungibile da qualche altra parte quando dico che la struttura simile ai vecchi metroidvania è appunto questa una mappa di cui ancora non siamo in possesso non siamo ancora in grado di capire la nostra direzione che però è contraddistinta da cunicoli da labirinti da sentieri nascosti i nostri primi passi qua dentro sono da veramente turisti di un luogo che non prevedeva turisti che non prevedeva estranei ma andiamo con calma un altro un altro di questi baccarozzi ma a quanto pare è abbastanza irraggiungibile per ora abbiamo preso pure una bomba in te in faccia bellissima anche l'animazione con cui curarsi non siamo ancora in grado di raggiungerlo l'art design è bellissimo di questo gioco ogni zona è diversa ogni zona ha le proprie peculiarità rieccoci infatti vedete che la mappa è connessa tra una parte e l'altra noi eravamo qua all'inizio abbiamo fatto un giro ma siamo tornati in questa parte abbiamo liberato il primo dei baccarozzi e quindi possiamo vedere che il padre è contento e ci premia qui ogni volta che ne libereremo uno potremo tornare per ricevere una piccola ricompensa una piccola o grande ricompensa in base al numero man mano maggiore di piccolini liberati anche qua in questa struttura vediamo che è pieno è pieno di sentieri e bivi ali cerchiamo di pulire un po' l'area noi da qua che provenivamo o no no qui era dove c'era probabilmente quelle porte chiuse no 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 è proprio dove provenivamo noi scusate nonostante tutto riesco ancora a perdermi nonostante tutte le ore passate sopra senza una mappa è molto difficile raccapezzarsi abbiamo raggiunto il fondo ma si può ancora scendere ed è quello che faremo e qua ci accorgiamo che c'è qualcuno uno strano e buffo figuro che sta prendendo degli appunti sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine non badare a me anche a me piace molto esplorare perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile tu ed io siamo estremamente fortunati sai io faccio il cartografo di mestiere e ho appena completato la cartografia di quest'area vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? e beh mi sembrerebbe proprio di sì e ora possiamo finalmente capire cosa siamo dove siamo ma da solo non servirà a mostrarti dove ti trovi se non hai un buon senso dell'orientamento ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie appena inaugurato il nostro nuovo negozio di cartografia pulveri è pieno zeppo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe vado spesso a trovarla dopo aver disegnato la mappa di una nuova area è sempre felicissima di vedermi non mi sono presentato ti chiedo scusa quando passi tanto tempo solo con i tuoi pensieri e rischi di dimenticarti le finezze della conversazione cornifer e ho sempre amato esplorare il mondo appena uscito dall'uovo sono partito in cerca di avventure lasciandomi dietro i miei fratelli e le mie sorelle e la mia povera madre ecco perché appena ho potuto mi sono trasferito insieme a mia moglie a pulveria un immenso sconfinato reame da esplorare proprio davanti a noi impossibile resistere comunque ti lascio ritornare al tuo viaggio con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo sii prudente che ne pensi della mappa ho cercato di renderla il più completa possibile ma le mappe sono sempre in corso d'opera se vuoi completarla tu stesso puoi acquistare tutto il necessario per la cartografia da mia moglie a pulveria abbiamo aperto un piccolo negozio per sbalcare il lunario ok e già ci dice alcune informazioni ok ok quindi ci tocca tornare a comprare un po' di soldi li abbiamo presi per fortuna vediamo un po' noi fondamentalmente siamo qui sotto la mappa è stata disegnata abbozzata ma si vede che mancano numerosi posti da visitare e come possiamo vedere la mappa è molto più estesa di quanto possa sembrare non ci rimane altro che tornare a pulveria sperando che adesso il negozio sia aperto scaliamo questa struttura ambigua e torniamo a pulveria il nostro primo obiettivo era questo trovare una mappa e capire da che parte andare e infatti ecco che è aperto finalmente il negozio di cartografia e questa sarà la bella iselda la bella si fa per dire si è venuto a comprare una mappa giusto di solito se ne occupa mio marito ma sorpresa è sceso di sotto ogni tanto fa ritorno per darmi nuove mappe da vendere ma io vorrei che passasse più tempo qui il commercio non mi interessa granché ma ora vediamo che cosa puoi offrirmi ecco qua ci sono già un sacco di oggetti molto interessanti a nostra disposizione la bussola ostinata fortemente consigliata se hai difficoltà a trovare la strada nel labirinti che rovina sotto di noi prova questo amuleto indicherà la tua posizione sulla mappa estremamente utile per potersi orientare nei luoghi sconosciuti la piuma per poter raggiungere alla tua mappa le nuove aree che scopri anche questo è molto importante è essenziale per chiunque voglia dedicarsi seriamente alla cartografia e poi dei segnalini che ci aiuteranno per trovare dei punti di interesse per segnalare dei punti di interesse sulla mappa e man mano che li acquisteremo vedremo di che cosa saranno per prima cosa secondo me la cosa più importante in questo primo momento del gioco più che la bussola ostinata per farci capire dove ci troviamo è la piuma che ci darà una mano a completare la mappa man mano che ci comparirà di fronte vedi mappa giornata praticamente in questa mappa vediamo come si illumini fondamentalmente l'aria che abbiamo visitato con i nostri occhi mentre rimangono più scure le zone ancora da scoprire sei già stato al tempio ho sentito dire che è uno strano edificio anche se io non ho mai usato andarci i più coraggiori tra noi ci andavano per pregare una volta dicevano di sentirsi in pace tra quelle mura dopo un po' hanno smesso di andarci mi chiedo che cosa sia cambiato una giovane coppia si è da poco trasferita nei pressi della stazione hanno aperto un negozio di strumenti per cartografia un avventuriero come te potrebbe trovarci cose interessanti la moglie è molto alta così ho consigliato loro di comprare una casa più grande anche perché tanto sono tutte vuote ma loro preferivano quella il modo in cui lei si è bassa per poter entrare dalla porta però io non potrei sopportarla ok ci ho già dato alcune informazioni in più e a giudicare da questa mappa la nostra direzione non può essere che quel grosso simbolo là in mezzo non poter entrare dalla porta non poter entrare dalla porta non poter entrare dalla porta non poter entrare dalla porta